buongiorno a tutti eccomi di nuovo qua con il video sulla mia agenda sul bullet journal in questo caso siamo arrivati al mese di ottobre quindi come al solito parto dalla copertina ovviamente per identificare il mese in cui stiamo entrando e anche per rilassarmi un po' perché il disegno mi rilassa in ogni caso se non vi piace tanto disegnare comunque vi consiglio di fare una copertina molto magari più semplice anche se la mia non è che sia molto elaborata però in modo che oltre appunto avere una funzionalità il bullet journal vi rilassi anche nel nel tempo in cui dedicate questa attività come al solito appunto parto dalla copertina come vi ho detto in questo caso ho realizzato degli oggetti diciamo che si trovano alla festa di halloween insomma che richiamano comunque la festa di halloween tipo fantasmini pipistrelli zucche porzioni magiche e così via eccoci qui passiamo dunque alla seconda pagina come al solito nella seconda pagina ho realizzato il mio calendario del mese con quindi tutti i giorni della settimana non sono andata a realizzare il mio solito calendarietto piccolino nella pagina della copertina perché è evidente che avendo cielo di fianco era inutile scrivere due volte la stessa cosa come al solito io lascio due riquadri in cui scrivere le cose importanti e le cose di youtube quindi vi consiglio sempre di farlo in modo che se volete appuntarvi qualcosa di importante per quel mese o che volete fare il mese successivo lo appuntate in questi quadratini qua eccoci qui alla terza pagina allora terza pagina realizzo il calendario come come al solito molto più in grande in modo che posso scrivere proprio oltre agli appuntamenti magari l'orario qualcosa sempre di importante che devo fare quel determinato giorno come al solito vedete sempre le stesse pagine diciamo tutti i mesi questo perché io da quando faccio il bullet journal mi trovo bene con queste pagine cioè ho visto che le altre pagine che realizzavo alla fine non le utilizzavo quindi era inutile continuare a riprodurle quando le lasciavo in bianco volevo realizzare una cosa molto più semplice per questo mese a dir la verità ma alla fine il disegno prende il sopravvento e quindi mi metto sempre a fare gli rigori e cose varie in ogni caso appunto nessuno vieta che si può fare il bullet journal in una maniera molto più semplificata se magari qualcuno anche non ha tutto il tempo da dedicare per fare disegnini o cose varie cioè la funzionalità del bullet del bullet scusate ricordiamocela sì qui vedete che vado a realizzare anche la pagina delle spese che per me è fondamentale molto molto importante per vedere effettivamente quanto si spende al mese vi accorgerete che che si spende che alla fine arriva un bel un bel totale giorno dopo giorno come al solito poi giriamo pagina e vado a fare il mio tracker del mese dove appunto tutte quelle attività che voglio monitorare durante tutto il tempo qui alla parte relativa proprio all'agenda quindi con tutti i giorni della settimana questa l'ho fatta veramente semplicissima quindi ho fatto solamente una riga di colore per distinguere i vari spazi per i vari giorni e niente numero e giorno della settimana siamo quindi all'ultima pagina quella relativa alla fine del mese io come al solito scrivo le solite tre cose quindi la frase del mese dove sono stata e le nuove ricette come al solito spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando mettete un like e iscrivetevi al canale se invece avete delle richieste particolari mi raccomando commentate così almeno io posso vederle ciao ciao ciao